Dalla prossima settimana parte a sapere il corso di accompagnamento alla nascita. Da molte future mamme del Golfo di Policastro l'annuncio è stato accolto con un sospiro di sollievo, dato che da tempo c'era l'esigenza di avere un aiuto competente durante gli ultimi tre mesi di gravidanza, dove attesa e gioia si alternano ad inquietitudine e dubbi. Uscite dallo studio ginecologico per sapere qualcosa di più sulla gravidanza, finora le partorienti dovevano appellarsi a qualche consiglio proveniente da una mamma già esperta o alla lettura di riviste e siti internet specializzati. Ora finalmente potranno parlare dei loro problemi o ansie con persone altamente specializzate. Già una decina di giovani coppie si sono iscritte alle prime lezioni organizzate dal consultorio familiare del distretto 71 di Sapri presso i locali del nuovo edificio dell'Asl di Via Verdi. In otto sedute un gruppo di medici formato da ginecologa, psicologa, pediatra e ostetrica fornirà un resoconto su come si svolge il parto, su come affrontare puerperio e allattamento, darà consigli utili su come vivere l'esperienza della maternità e offrirà un'assistenza materiale e psicologica di grande importanza per le donne in procinto di avere un bambino. Ora non resta che superare l'ultima insormontabile barriera per rendere il parto meno angoscioso. L'uso dell'epidorale, cioè quell'anestesia locale che elimina il dolore del parto lasciando al tempo stesso la mamma attiva e cosciente.